Ci troviamo in un'altra tappa di Pasta Estadio 2013, ci troviamo qui nel ristorante dei Cinque Porte per i famosi piatti stupefacenti. Come hai mangiato qui Roberto Annicito? Sono molto contento di aver fatto questa tappa qui a Cinque Porte a Penta, Salerno. Abbiamo mangiato divinamente per far capire ai giovani questo messaggio. Più proteina, meno cocaina perché i giovani noi con la pasta godiamo, ve lo garantisce DJ Annicito al Cinque Porte di Penta, Salerno, Fanchicamon.